Buongiorno a tutti amici della Radio Italiana in Florida, la Radio del Buonsenso, sono Fabrizio Ciancio, il suo fondatore e come sapete spesso vi porto delle interviste interessanti. Bene, allora questa sera abbiamo qui in collegamento una persona professionale molto molto preparata, si chiama Lisa e quindi Lisa presentati, se no qua ci metto due ore io a fare tutta la lunga terrellata. Va bene, ciao a tutti o buonasera o buongiorno dipende da che ora lo sentite, io sono in Florida con Fabrizio e ho voluto mandare un messaggio agli italiani perché ovviamente anche se vivo in Florida l'Italia è comunque la mia patria e sto seguendo tutti gli avvenimenti da vicino, avendo comunque anche la famiglia, maggior parte della mia famiglia in Italia e cosa faccio io? Io sono una consulente aziendale che usa la tecnologia di management Hubbard e anche una consulente spirituale che usa la tecnologia spirituale dello scienziato e filosofo e umanitario Mr. Hubbard, Aaron Hubbard. Quindi perché voglio parlarvi stasera? Perché capisco che c'è una grossissima confusione e con la chiamiamo così inondazione di dati che arrivano da tutte le parti, io lo sto sperimentando perché ormai il mio telefono sta saltando in aria tra il Whatsapp, gli email e tutte le varie cose che mi arrivano, a un certo punto anch'io sono andato un po' in confusione e ho pensato sì, ma adesso cosa me ne faccio di tutti questi dati? E ho usato quello che normalmente io consiglierei a tutti e che a me sta aiutando tantissimo a uscire da questo marasma di dati che non si capisce quali sono veri e quali sono falsi. Esatto. Giusto? Sì, sì, assolutamente, guarda, anch'io sono proprio in confusione. Esatto, ci credo e presumo che la maggior parte degli italiani a casa lo siano, almeno ho sentito dei miei parenti, dei miei amici e ho aiutato anche loro. Quindi volevo dire, facciamolo un po' a tutti gli italiani che sono sulla nostra radio. Esatto, grazie. Bene, allora vediamo un po', ve lo dico brevemente in modo semplice. Mr. Abbara ha scritto molti dati sulla logica. Che cosa sono le logiche? Allora voi, penso che molti di voi conosceranno che all'inizio, inizio, inizio c'era una logica solo, un valore, chiamata un solo valore. Questo valore era il volere degli dei, quindi le persone si affidavano al fatto, a quello che gli dei gli dicevano attraverso fenomeni naturali, non so, tipo il terremoto o qualsiasi altra cosa. Più tardi il nostro vecchio Aristotele si è battuto e ha messo la logica a due valori. Almeno avevamo due valori, quindi c'era giusto e sbagliato. Ok? E questo è stato un grande passo avanti nell'umanità. Poi la cosa si è evoluta ancora di più e diciamo che la logica che usiamo adesso, che sarebbe la logica più perfetta, è una logica a infiniti valori. Per cui la persona per valutare qualcosa non può valutarlo solo in base a un dato. Se voi volete valutare o noi vogliamo valutare qualcosa, qualsiasi cosa arrivi sulle nostre linee, che sia televisione, che sia Whatsapp, che sia anche semplicemente un parlare con amici, possiamo valutare un dato solo se ci sono altri dati che paragonano il dato in questione. Facciamo un esempio. Io sentivo veramente i numeri dei morti. Allora, ho sentito un po' di tempo fa, forse una settimana, a Bergamo ci sono stati in un giorno tot numero di morti, no? Oppure in Italia ci sono tot numero di morti per il coronavirus, ovviamente questo è da... o in America sono tali. Ora, se a me arriva un dato del genere, ovviamente mi spavento, giusto? Perché non lo sto valutando con nessun altro dato. Adesso facciamo solo un esempio. Io ho aperto sul mio computer il World Meter. Praticamente mi dà a ogni istante dei dati della popolazione media. Quindi se io adesso, in questo momento, dicessi a voi, se dall'inizio del 2020 fino ad ora nel pianeta ci sono stati 15 milioni e 600 mila morti, che aumentano guardando il computer sempre di più. Una strage. Bene. La persona che sente questo dato, minimo, si spaventa, giusto? Certo, certo. Bene. Però se io gli do dei dati di paragone e gli dico, ok, sono morti 15 milioni di persone, però la popolazione mondiale è 7, quasi 8 miliardi, quindi c'è già un dato di paragone. E sono nati 37 milioni di persone nello stesso periodo. Allora, se io do questi dati negativi ma anche positivi e li metto a paragone, la persona non si spaventa così tanto. È corretto questo ragionamento? Giusto, giusto. Cioè ne sono nati 37 milioni e ne sono morti 15 milioni. Esatto. Bene. Ok. Allora, ovviamente la persona può paragonare. Come se io dicessi, c'è la guerra, sono morti 15 mila persone, però non dico che la popolazione di quel posto era di 20 milioni di abitanti. Quindi i dati devono essere paragonati perché altrimenti la persona potrebbe andare su paura. Quindi quello che io consiglio alle persone è essere in grado di valutare tutti i dati che prendono e vedere se sono dati che danno un valore unico, non accettateli perché non potete paragonarli a nulla. Quando vi arrivano dati paragonabili, dicono ok, quest'anno ci sono stati tot morti per influenza di coronavirus, l'anno scorso sono stati tot, allora si può valutare meglio la situazione, altrimenti non è valutabile. Quindi prima cosa vi consiglio questo e questo aiuta tantissimo. Poi la seconda cosa, allora una delle cose che ho notato sempre con i miei amici, parenti, è che la paura era quella che più danneggiava, più del virus in se stesso. Perché? Perché è questo. Allora un virus, adesso io non sto, ho studiato biologia eccetera, però adesso non faccio la lezione di biologia. Un virus più o meno sappiamo che cos'è, è questo semi vivo organismo che si instaura. Però il virus, ci sono poi tante definizioni, ha e attecchisce in persone, i medici, i biologi lo dico tranquillamente, che hanno un sistema immunitario depresso. Le persone che hanno un buon sistema immunitario combattono il virus velocemente con pochissimi effetti collaterali. Quindi detto questo, questo è una cosa che uno può andarsi a vedere su internet da tutte le parti, penso che è una delle cose che soiano d'accordo i migliori medici e scienziati del pianeta. Quindi quando la persona, e anche su questo si sono studi proprio medici, ha paura, il suo sistema immunitario purtroppo funziona molto meno. Cosa succede quindi? Quando la persona è allegra, è positiva, è felice, è contenta, il suo, l'ammontare di questi ormoni che aiutano ad alzare il sistema immunitario sale tantissimo. E quindi parliamo della seratonina, delle endorfine, della dopamina, eccetera, eccetera. Quando queste sostanze sono alte come livelli nel nostro corpo, il nostro corpo ha più capacità di combattere virus, batteri, eccetera, eccetera. Per cui, cos'è che succede? Succede che, mi senti? Sì, sì, certo. Ah, ecco, voglio essere sicura che gli ascoltatori poi sentano bene la mia voce. Saranno tutti con le orecchie apertissime perché qua veramente la gente è super impaurita. Purtroppo, purtroppo, io ho visto anche recente, questo è uno dei bei video che ho visto su WhatsApp che mi hanno mandato, un signore che faceva tutta una bella musica e tutto che alla fine diceva il virus più pericoloso è il virus P, praticamente il virus della paura. E aveva totalmente ragione perché questo è quello, cosa succede? Le persone si impauriscono, scende il sistema immunitario, non funziona più bene, e la persona si può ammalare. Quindi io la cosa che consiglio, ed è questo il consiglio che voglio dare soprattutto, lo so che è dura, lo so che non è bello essere in prigione forzatamente, so tutto ciò e lo so, lo sento, lo vivo tutti i giorni, lo sperimento, io faccio molte consulenze spirituali a riguardo a ciò, cercando di aiutare le persone. Però abbiamo qualcosa di semplice che le persone possano usare, ok? Cosa possono usare le persone? Le persone possono usare dei dati semplici che le aiutano. Ora, se noi vogliamo, se siamo andati un pochino giù, con paura a causa di tutte queste notizie che ci innondano, beh beh, prima cosa direi non ascoltate troppo le notizie cattive, valutate voi i dati e decidete per voi quelli che sono veri e quelli che non lo sono. Seconda cosa, però se vi sentite un po' giù di tono, anche per la, diciamo, reclusione forzata, c'è un bellissima, che io chiamo assistenza, che inconsiste semplicemente, uno la può fare con un altro, se siete in casa con un'altra persona, ve la scambiate, o può essere fatta da sola se proprio siete da soli. È molto semplice, adesso vi dico più o meno cosa dire, dite guarda quel e indicate alla persona a cui lo state facendo un oggetto della casa, dove siete, del giardino, se siete fortunati a uscire in giardino, e indicate, continuate a farlo, finché sentite che questa paura, questa apprezzione, quest'ansia che state provando, è, diciamo, svanita o comunque alleggerita. E lo potete continuare a fare quante volte volete. Cioè, questa è una cosa semplice, ma io ho visto e ho aiutato tantissime persone con questa semplice cosa. Cioè, un momento, fammi capire, cioè, gli diciamo, guarda quell'albero, per dire, oppure guarda quella macchina rossa, e quella lo fa, e poi cosa gli dobbiamo dire dopo che l'ha fatto? Guarda, semplice, gli dici, guarda quell'albero, se avete un giardino, grazie, ovvio, la persona l'ha guardato, e gli dà anche un riconoscimento al fatto che l'ha guardato. Poi guarda quel mobile, guarda, grazie, guarda quel tavolo, grazie. Anzi, se già ci siete, chi sta ascoltando, vi do alcuni di queste domande, e voi lo eseguite. Ok, io non posso dirvi, non so se nella vostra stanza ci sono questi oggetti, per cui darò dei comandi un po' diversi, visto che non vi posso vedere, no? Di oggetti che so che comunque esistono in ogni casa. Ok, pronti? Sì. Bene. Guarda il soffitto. Sì. Grazie. Guarda il pavimento. Sì. Grazie. Guarda la parete alla tua destra. Alla mia destra, fatto. Grazie. Guarda la parete alla tua sinistra. Ok. Grazie. Guarda la luce, la lampada che c'è nella stanza. Sì, sì, l'ho fatto. Ok. Ok, spero che solo avendo fatto pochissimi comandi, questi sono pochi, la persona si sente un po' più estroverso, Fabrizio, come ti sei sentito dopo pochi comandi? Beh, sicuramente non stavo pensando al coronavirus e niente, stavo sentendo quello che mi dicevi te, quindi ero concentrato sul guardare questi oggetti. Bene. Quindi continuate a farlo, ovviamente io adesso non essendo nella vostra stanza non posso indovinare gli oggetti, ho fatto i più semplici che ci sono in tutte le stanze, a meno che non abitate in una capanna, o in un castello. Ebbene, le pareti ci sono, per fortuna. Esatto, quindi per cui questo è utile. Dove trovarlo? C'è un sito nel vostro computer, se avete il computer e internet, chiamato ministrovolontario.it. Correggimi Fabrizio se sbaglio, è così? È giusto, è giusto. È giusto. Andate su questo sito, appariranno diversi corsi gratuiti online. Uno di questi corsi si intitola Assistenze per malattie e ferite. E l'assistenza che vi ho appena detto è in questo libricino che potete ovviamente vedere su internet e fare anche un corsettino, perché ci sono tante altre assistenze utilissime e che io utilizzo giornalmente sulle persone a cui do assistenza spirituale. Per cui... Un corso a pagamento è gratuito? No, è gratuito questo corso, assolutamente gratuito. E ce ne sono molti altri bellissimi, tutti gratuiti. Per cui la persona adesso che non avrà tantissimo da fare, purtroppo perché non può lavorare, almeno molte persone non possono, e quindi presumo e deve stare chiusa in casa, magari fa qualcosa di utile per se stesso e gli altri. E si sta abbastanza su di tono, chiamiamo, un livello di tono che non so, un po' superiore, molto superiore a paura, almeno su internet, per evitare di abbassare le sue potenziali diciamo, difese immunitarie, in modo che le sue difese immunitarie possano rimanere alte o salire ancora di più. Quindi vi invito anche a divertirvi, guardare cose belle, raccontarvi barzellette, tutte quelle cose che possono tenere il tono alto. Ok, quindi ricordiamo, aspetta, ricordiamo il sito che è www.ministrovolontario.it Ecco, magari vogliamo spiegare che cosa vuol dire questo ministro volontario? Ministro volontario è semplicemente un sito diciamo in cui vengono dati tutti i consigli per aiutare l'umanità. I ministri volontari sono delle persone che, come il nome dice, il nome stesso dice, che appartengono a un'organizzazione e che aiutano, che vanno quando ci sono disastri, per esempio terremoti, inondazioni, uragani, si prestano all'aiuto dando aiuto diciamo spirituale, assistenze, aiuto anche fisico tipo trasporto di quello che serve dal cibo o al qualsiasi tipo di aiuto. Quindi è un'organizzazione di questo tipo. Troverete tutti i dati sul sito e se poi volete essere anche voi dei ministri volontari lo potete fare, in fondo è un aiuto che si dà all'umanità. No, no, te lo dico perché io lo so perché le ho fatti tutti questi corsi qua, mi sono piaciute tantissimi, ce ne sono certi che uso veramente anch'io tutti i giorni su di me, no? E quindi li conosco bene, lo dicevo per il pubblico che magari non lo conosce, questo è il gruppo più grosso al mondo di volontariato. Oh, bene, bene. E sono importanti, conosciutissimi in giro, erano anche l'11 settembre, al terremoti, vanno da tutte le parti veramente in tutto il mondo. Sì, sono incommiabili, ci sono moltissimi articoli su di loro, anche sui giornali, di quello che fanno, però adesso cominciamo a vedere questo dato che vi ho dato, cominciamo una cosa alla volta, che in questo momento può essere veramente molto utile, poi potete andare a trastullarvi sul sito, così conoscerete molti più dati. Quindi www.ministrovolontario.it e il corso si chiama Assistenze per malattie e ferite. Esatto. Se ci sono dei problemi su raggiungere il sito, su sapere come fare, potete sempre, presumo, scrivere a Fabrizio, giusto? Sulla chat della... Tutti hanno la mia email della radio, possono contattarmi su WhatsApp, non c'è problema. conosco molto bene questo. Bene. Ok. Bene. Allora... Quindi abbiamo visto come non farsi prendere dai dati assoluti, diciamo, e quindi compararli con altri dati paragonabili e poi che cosa possiamo fare se ci sentiamo un po' ansiosi, se abbiamo un po' paura e quindi cosa possiamo fare sia che siamo da soli, sia che siamo in due, un'assistenza che ci può tirare un po' su di morale in maniera che il nostro sistema immunitario, ovviamente, mangiando, dormendo bene e tutto quanto, mangiando naturale, con vitamine, tutte queste cose qua contribuiscono ad andare a causa, quindi a bloccare e a combattere nella maniera più efficace questo virus. Esatto. Ovviamente questo include le varie pulizie, lavare le mani, tutte le cose che già si dicono e che presumo le persone stiano facendo come io disinfetto tutto, tutti i giorni qui girano disinfettanti potenti, lavo le mani, non l'ho mai levati così tanto, è ovvio, quando non mi avvicino a persone e mantengo le distanze, quello che sono le disposizioni comuni, ma questo non ci può impedire anche seguendo quelle regole di andare veramente su paura e quindi anche seguendo poi tutte queste regole il nostro sistema immunitario purtroppo può cadere, quindi dobbiamo farli tutti e due. Bene, io penso che vorrei salutare tutte le persone che mi hanno gentilmente ascoltato, spero di essere stata utile per alcuni di loro e magari ci rivedremo in un'altra occasione per parlare di qualcos'altro a questa bellissima radio che ci sono veramente tantissimi programmi e personaggi eccezionali che parlano e dicono la loro io la considero una radio molto importante per diffondere notizie vere che vengono dal cuore, quindi grazie Fabrizio di avermi invitata. Grazie a te per il tempo che ci hai dedicato perché so che sei molto impegnata con tutte le tue consulenze e sì è vero io sto facendo una radio informativa che diciamo contribuisce a informare le persone su quello che normalmente non passa in televisione e quindi una televisione diciamo un canale informativo alternativo e però mi sono accorto che parlando sempre in questo periodo qua ovviamente di virus il virus anche io stavo contribuendo a questa paura creare questa paura qua quindi ho detto no dobbiamo trovare una cosa prima l'ho fatto per me ovviamente però ho detto no dobbiamo dirlo a tutti gli altri quindi ti ringrazio tantissimo per il tempo e per le informazioni che ci ha dato questa sera grazie a te Fabrizio e alla prossima bene allora un abbraccio senza virus a tutti quanti abbraccio virtuale virtuale un abbraccio virtuale ciao a tutti ciao grazie a tutti Grazie.